Buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. Cresce di ora in ora la rabbia, l'esasperazione di molte categorie della Friuli Venezia Giulia dopo gli annunci del Premier Conte di ieri rispetto alle prossime fasi della cosiddetta fase 2, le riaperture, soprattutto tra i più arrabbiati ci sono i commercianti, gli esercenti titolari di bar e locali pubblici che dovranno aspettare sino al primo giugno per poter riaprire e nel primo pomeriggio di oggi, dato il mezzo dalla Carnia, una protesta che probabilmente richiamerà l'attenzione a livello nazionale perché circa una quarantina, una cinquantina di esercenti, di baristi del capologo Carnico si sono ritrovati pacificamente con le mascherine a distanza di sicurezza in piazza per gridare tutta la loro rabbia e la loro esasperazione. E in collegamento Skype con noi abbiamo uno di loro, Michelle Copiz, titolare del Caffè Manzoni di Tolmezzo, per farci raccontare dunque come è nata e come si è sviluppata questa protesta. Buon pomeriggio. Buongiorno, buongiorno. Grazie intanto a Udinese TV per avermi concesso questi minuti con voi. Vi siete ritrovati tramite un appello lanciato sui social, nelle chat di Whatsapp, l'appuntamento alle 14.30 in piazza 20 settembre e dunque in molti hanno risposto a questa chiamata. Ma sì, come ha detto lei, è stato un tantam, diciamo, proprio su Whatsapp, sui canali social, e da questa mattina, dopo appunto, come ha detto lei, il discorso del Premier Conte di ieri sera, già ieri si allusava il malcontento. E da qui è partita questa, chiamiamola manifestazione, che poi non doveva neanche essere una manifestazione, è stato un incontro solidale fra tutte le parti, c'eravamo noi, c'era gente che lavora anche in piccola industria, c'erano dei medici, dei chirurghi, dei dentisti, artigiani, c'era un po' di tutto. E questo per, ovviamente, far sì che, per dare un segnale, e se la carnia, che non era abituata a queste cose qua, si sta muovendo, vuol dire che c'è sotto qualcosa veramente di grosso. Siamo all'esasperazione, non ce la facciamo più, e questa cosa che è arrivata ieri, poi di dover aprire il primo di giugno, ci ha tagliato le gambe, perché chi riuscirà a aprire il primo di giugno? Questa è una domanda che faccio, ovviamente, al Comune e in Regione, c'erano due o tre esponenti politici in piazza, e l'ho chiesto, ho parlato con loro, e spero lì anche a Roma, perché così? Io non so se bene hanno capito la nostra politica, ma qua si rischia che, se non riapriamo, presumo che chi riuscirà a aprire in giugno, forse aprirà per un mese, due mesi, tre mesi o quattro mesi. A settembre qua si rischia che gran parte dell'indotto, che creano bar, ristorazione, vendita al dettaglio, eccetera, siano annientati. E io ho fatto appunto questa domanda qua, e ho detto a loro, ma signori, sapete che qua, tra sei mesi, se continua così, non avrete neanche gli stipendi per voi, per i politici, per la sanità, non avrete gli stipendi per i parenti miei, come mio papà, mia mamma che ha lavorato 40 anni, e si ritroveranno senza pensione. Perché qua, io non so se abbiamo ben capito, ma siamo a questi livelli qua. Cioè, la situazione non è drammatica, ma molto peggio. Sì, avete ricevuto poi anche la visita del sindaco Brollo, che è venuto in piazza ad ascoltare le vostre rimostranze. Si è impegnato, immagino, a portare all'attenzione poi del governatore Fedriga, questa voce di rabbia, di malcontento, di esasperazione, come l'hai anche definita tu. Sì, ringrazio il sindaco Brollo e anche c'era l'assessore Boschetti, e anche il sindaco di Paolaro. Io il sindaco e l'assessore regionale li ringrazio perché sono venuti, perché alla fine bisogna che qua ci chiudiamo un po' a riccio, e abbiamo bisogno di tutti, perché ho detto che siamo tutti nella stessa barca, e ho detto di riportare che la situazione è drammatica. Loro mi ha detto, il sindaco, che loro possono intervenire su piccole cose, che sia la tares, il suono pubblico, ovviamente, ma qua ci vuole qualcosa di più maseccio. Va bene tutto, tutto aiuta, ma qua ci vuole qualcosa, abbiamo bisogno di linfa, abbiamo bisogno di linfa, perché non ce la facciamo più. Non ce la facciamo, non è arrivato un euro, o a pochi sono arrivati la cassa integrazione dipendente. I 600 euro sì, io sono uno dei fortunati che mi sono arrivati, io tra l'altro li ho lasciati sul conto corrente aziendale. Il giorno dopo mi è arrivata la bolletta della luce, con tutto spento, 580 euro di luce. Cioè, siamo veramente alle comiche, alla follia pura. L'assessore Boschetti mi ha detto che parlerà, si incontrava con Fedriga, e chiederà, anche perché mi diceva che Fedriga è molto propensa all'apertura anticipata, non si può aspettare, non si può aspettare. L'assessore Boschetti mi ha detto, sono qua presente, appunto, per dimostrare che ci siamo e vogliamo darvi una mano. E abbiamo bisogno subito di una mano, non possiamo aspettare. Perché qua sta finendo la benzina a tutti, siamo già in riserva. Qualcuno l'ha già finita e quindi non riaprirà, e quei pochi sono già in riserva. Io non so se si rendono conto che qua ci ammazzano, ci stanno ammazzando tutti quanti. Quindi io spero che questo vada in comune, vada in regione, in regione vada a Roma, perché altrimenti veramente ci andiamo noi, ci andiamo noi a Roma. Ma stavolta andiamo giù cattivi, perché il sentore è questo. Io parlo, ho lavorato dieci anni fuori regione, parlo con i miei colleghi di fuori regione, e il sentore è tutto uguale. Si va a Roma. Chiaro, chiaro il messaggio che ci ha lanciato Michel Coppitz da Tolmezzo, e queste immagini emblematiche anche con la forza degli stessi commercianti che sono scesi in piazza pacificamente, l'abbiamo detto, ma sfidando anche le restrizioni, e questo proprio per denunciare, per testimoniare davvero l'accorato appello che viene rivolto alle forze dell'Urline. Grazie, noi continueremo a seguire l'evolversi della situazione, e non rimane che augurare in bocca al lupo, e sperando appunto arrivino davvero risposte concrete. Grazie. Grazie, grazie a voi, grazie a voi. Dalla protesta dei commercianti, dei baristi di Tolmezzo, a quella dei parrucchieri, degli estetisti, anche loro sul piede di guerra, inaccettabile lockdown dell'attività fino a giugno, l'appello di Confartigianato a Fedriga per riaprire il prima possibile, il capogruppo della categoria Ponta lancia una petizione online, a seguito di questa richiesta, massima fiducia nell'azione del Presidente della Regione al Governo, chiediamo cinque anni di sgravi fiscali, ascoltiamo. Buongiorno a tutti, cari colleghi parrucchieri, barbieri, estetiste, onicotecniche e tatuatori, consapevoli di una chiusura dei due mesi fa per la salute propria e dei propri clienti e collaboratori. Con un'etica professionale abbiamo chiuso le nostre attività. Adesso abbiamo avuto pazienza due mesi. Con tanta, tanta pazienza dovremmo sopportare ancora un mese di chiusura. Con tante incertezze, con tanto fumo negli occhi, chiediamo degli aiuti almeno per cinque anni di sgravi fiscali, per il settore benessere, in grave, ma grave, grave difficoltà. E vi garantisco che fra un po' tante imprese chiuderanno. Non abbiamo più pazienza. Credetemi, la situazione è molto, molto grave. Facciamo un appello al nostro Governatore Fedriga, che ci dia un sostegno per la riapertura al più presto possibile. Lancio un appello al Governatore Fedriga come sostegno alla riapertura delle attività del settore benessere. La pazienza è finita. Vogliamo riaprire in sicurezza e in professionalità. Le aziende sono al collasso. Anche il Sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per chiedere di prendere in considerazione il fatto di anticipare per la città di Udine la scadenza prevista del DPCM di ieri. Lo annuncia in una nota l'Amministrazione Comunale. Secondo Fontanini, mantenere ferma la data del 1 giugno per la riapertura di bar, ristoranti e parrucchieri significa condannare a morte un intero comparto e creare drammatici danni economici, il cui impatto sarà di portata decennale. Udine presenta dati tra i migliori del Nord Italia per quanto riguarda i casi di positività e anche l'autorevole rivista Forba, attraverso un incrocio di parametri, ha individuato Udine e Pordenone, gli unici capologhi di provincia del Nord Italia pronti alla ripartenza. Fontanini ha presentato questa missiva al Premier, citando anche alcune cifre che testimoniano, a suo avviso, il superamento della fase critica in città. I numeri sui contagi di alcuni giorni sono stati sotto i 30 su 100.000 abitanti, con un indice in costante calo che si aggira attorno allo 0,5%. Anche per quanto riguarda i decessi, aggiunge la situazione sotto controllo. Ad oggi, infatti, i morti sono solo due. Per Fontanini, alla luce di questi numeri, le scadenze previste sul DPCM di ieri, benché giustissime per realtà, nelle quali la situazione è ancora critica, non trovano nel nostro caso una motivazione ragionevole. E Fontanini, ai nostri microfoni, stamattina ha annunciato anche la riapertura dei cimiteri e anche dei parchi, che dovranno però scattare, in questo caso, dal 4 maggio. Andiamolo ad ascoltare nell'intervista di Monica Nardini. Sono indignato, come sono indignati i lavoratori, coloro che hanno esercizi bar, ristoranti in città, che dovranno aspettare ancora più di un mese per poter riaprire, è una cosa assurda. La città di Udine, lo dicono le ricerche fatte da istituti qualificati alle carte in regola per riaprire, per far ripartire tutte le attività. Non capisco questo ulteriore mese di attesa che non è giustificato né da casi di epidemia dei coronavirus né da altre situazioni. Sto scrivendo proprio una lettera al Presidente Conte per manifestare la mia indignazione e per chiedergli di rivedere un po' questo decreto che ha emanato ieri sera per dare la possibilità a quelle città che sono con situazioni ottimali come Udine di poter riaprire prima rispetto al primo giugno come è stato indicato per tante attività. Tra l'altro noi come Comune siamo già pronti a concedere ulteriori spazi pubblici ai bar in particolare perché possano mantenere le distanze che saranno previste per tutelarsi dal contagio del coronavirus. Rispetto alla città si sta molto discutendo anche della scelta dell'amministrazione di mantenere seppur ricalibrata l'edizione prevista di Friuli Doc. L'opposizione per esempio ha chiesto di destinare le risorse anche maggiori spazi piuttosto proprio alle attività commerciali. Stiamo parlando di 400 mila euro. Io sono convinto che noi dobbiamo dare il segnale che la città è pronta a ospitare le manifestazioni. Non verranno realizzate subito. Friuli Doc è una manifestazione che si fa a metà del mese di settembre. Lei si immagini se noi dobbiamo restare chiusi fino a settembre. Vuol dire che l'economia muore. Noi faremo degli interventi molto forti. Stiamo valutando circa 2 milioni di euro da destinare a favore delle attività commerciali. Quindi i 400 mila euro di Friuli Doc sono una piccola cosa rispetto all'entità degli investimenti e degli aiuti che il Comune sta predisponendo e che verranno dati a favore dell'attività commerciale. A proposito di riapertura ha annunciato la riapertura dei cimiteri. Sì, i cimiteri ho appena firmato l'ordinanza. Domani saranno aperti tutti i cimiteri della città per permettere alle persone di andare sulle tombe dei propri cari. Rispetto ai parchi invece? Anche sui parchi stiamo ragionando. Probabilmente con il 4 di maggio li riapriremo. Quelli in città verranno controllati da persone dedicate per evitare l'affolamento di numeri elevati di persone all'interno dei parchi. Ma per quanto riguarda il Cormor e il Parco del Torre che sono di amplissime dimensioni non ci sarà questo problema. Quindi anche i parchi verranno riaperti perché i cittadini hanno il diritto di fare qualche bella camminata e anche qualche bella corsa nei parchi cittadini. Citava Fontanini i numeri di Udine e di Pordenone considerati dalla rivista Forbes tra le migliori in Italia e nel nord Italia per quanto riguarda i parametri dei contagi e dei decessi. Allora andiamo a Pordenone a farci raccontare live dal nostro Daniele Boltin quali sono state le reazioni nella città del Noncello al nuovo DPCM di Conte. Ben ritrovato Daniele. Buongiorno Davide. Com'è la situazione dunque a Pordenone e il sindaco Ciriani ha annunciato anche lui nuove riaperture? La situazione a Pordenone al momento possiamo dire che è sotto controllo. I numeri complessivi riguardano circa 600 persone tra cui 328 positivi in tutta la provincia e 275 persone sotto sorveglianza perché entrate in contatto con positivi. La notizia migliore al momento è diciamo lo svuotamento della terapia intensiva all'ospedale sui 15 posti di terapia intensiva proprio per i malati Covid attualmente ne sono occupati 4 e si è arrivati a un picco di 13 il 7 aprile quindi la situazione è in discesa. Sempre all'ospedale è ancora isolato il reparto di seconda medica ormai da 10 giorni dopo un contagio arrivato dalla casa di riposo di Castino di Zoppola dove ieri si è registrata la 17esima vittima Mario D'Urigon di 91 anni che possiamo dire che è l'unico focolaio della provincia purtroppo a questa casa di riposo. Per quanto riguarda il nuovo decreto anche a Pordenone l'amministrazione comunale sta valutando le riaperture dal 4 maggio si valuta la riapertura dei parchi in particolare del parco San Valentino che comunque verrebbe riaperto a metà perché c'è un cantiere in corso come diceva anche prima il sindaco di Udine anche a Pordenone ha il vaglio una proposta per aumentare lo spazio dei Deor e quindi dare più possibilità ai ristoratori. C'è da dire che i ristoratori molti a Pordenone si sono arrangiati diciamo così diverse pizzerie storiche di Pordenone che non hanno mai fatto il servizio a domicilio con questa settimana hanno iniziato a fare nuovi servizi ci sono bar che alla mattina portano le brioche a casa il caffè purtroppo non lo possono fare però ci si ingegna. Chiaro, chiaro questa è dunque la fotografia della città del Noncello per quanto ti riguarda invece Daniele ci eravamo lasciati l'ultima volta con l'aggiornamento sul tampone che dava ancora la tua positività al Covid-19 come stai? Hai avuto aggiornamenti? Sto bene però sono ancora positivo oggi è il 39esimo giorno da quando sono comparsi i sintomi quindi la cosa sta diventando lunga la mia compagna che è infermiera qui al Santa Maria degli Angeli è negativa e oggi è rientrata al lavoro e adesso è iniziato l'isolamento domestico tra di noi cercando di non vederci in casa per quanto possibile non stiamo vicini il primo maggio dovrei avere un altro tampone vedremo incrociamo le dita dunque auguri anche a te per poter uscire finalmente da questa situazione e grazie per gli aggiornamenti che ci hai raccontato da Pordenone alla prossima grazie a te buona giornata Entriamo in studio per continuare con il notiziario e con gli aggiornamenti che arrivano dalla situazione in Friuli Venezia Giulia alcuni ce li ha raccontati poco fa proprio Daniele Boltin da Pordenone il quadro regionale dalla mappa della protezione civile ci presenta questi numeri aggiornati scorrendo andiamo a recuperarli assieme per quanto riguarda i casi di contagio andiamo a dare i numeri aggiornati i positivi attualmente sono 1.317 i deceduti sono saliti a 267 i guariti a 1.238 il totale delle quarantene 1.090 tra gli ultimi due decessi registrati ritorna ancora il focolaio di Paluzza della casa di riposo dove salgono a 15 i decessi sabato sera è venuta a mancare una donna di 92 anni proveniente da Tolmezzo accolta in casa di riposo dagli inizi del 2017 dopo i primi due tamponi negativi al terzo del 17 aprile era risultata positiva le sue condizioni prima del contagio presentavano un quadro già compromesso la seconda vittima un uomo di Paluzza di 86 anni accolta da meno di un anno in casa di riposo solo venerdì scorso al quarto tampone l'uomo è risultato positivo dopo le tre negatività registrate in precedenza nell'ambito di un quadro clinico che non addestava preoccupazioni il tampone è stato effettuato a seguito di un peggioramento delle condizioni respiratorie continuiamo con le notizie la situazione del CPR di Gradisca di Sonzo con la richiesta della deputata Deborah Serracchiani alla Viminale affinché accolga l'appello del sindaco di Gradisca e dei sindacati di Polizia in strutture come il CPR e il CARA di Gradisca devono essere poste in atto tutte le misure per ridurre il rischio dei contagi da parte della regione dovrebbe essere promosso una campagna di tamponi che copra tutti coloro che lavorano o gravitano all'interno della struttura ha chiesto Serracchiani ho nuovamente sensibilizzato il Viminale aggiunto sulla situazione di Gradisca che continua a vivere una condizione irrisolta per la convivenza di CARA e CPR affinché almeno non si sgravino le strutture di altri arrivi ma occorre al contempo che la regione non trascuri di fare tutto il necessario per monitorare e tenere in sicurezza questi gruppi di persone il fronte controlli ora con le forze dell'ordine che continuano a monitorare la situazione 1914 le persone controllate nella giornata di ieri in Friuli Venezia Giulia di queste 153 sono state sanzionate per inosservanza e quanto emerge dai dati diffusi dalla prefettura di Trieste durante le verifiche 19 persone sono state denunciate per altri reati nella giornata di ieri le forze dell'ordine hanno inoltre controllato 387 esercizi commerciali ancora cronaca con due persone arrestate per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel corso di un controllo stradale avvenuto a Caorle nella vettura su cui viaggiavano c'era circa 30 grammi di eroina nella successiva perquisizione domiciliare rinvenuti anche altri due grammi di eroina due dosi di marijuana tre spinelli già confezionati una boccetta di metadone e una cospicua somma di denaro contante che ritenuta a provento di illecite attività è stata sequestrata assieme al materiale per il confezionamento i due rispettivamente di 34 e 41 anni residenti in zona sono stati posti ai domiciliari su disposizione della procura di Pordenone a Monfalcone ora dove si è firmato stamattina un protocollo senza precedenti tra il comune la Fincantieri l'ufficio scolastico regionale e l'Isis Pertini un accordo che abbina la vocazione del territorio con le esigenze formative e il fabbisogno di professionalità per il settore della Navalmeccanica ascoltiamo comincia adesso un percorso triennale abbiamo due classi terze nel percorso di assistenza e manutenzione saranno selezionati in queste due classi i ragazzi più meritevoli anche con l'aiuto della selezione personale di Fincantieri affinché comincino un percorso di tre anni che veda alla fine un inserimento nel mondo lavorativo un testo importante che rappresenta da questo momento in poi un punto di partenza per un qualcosa che andremo a costruire e che rappresenterà sicuramente un punto essenziale per lo stabilimento di Monfalcone ma in generale per quella simbiosi che deve esistere tra territorio e azienda all'interno della quale il mondo della scuola è sicuramente una parte essenziale per quanto ci concerne e questa convenzione mette insieme un ragionamento che vuole il territorio il futuro dei nostri giovani vicino a una grande azienda che è Fincantieri e che in una simbiosi di intenti consentirà appunto ai ragazzi ai giovani meritevoli a coloro che hanno voglia di impegnarsi di frequentare all'interno della scuola Pertini come dire un percorso per avvicinarsi in maniera importante all'azienda e poi alla fine del percorso per questi giovani ci sarà il riconoscimento della possibilità di lavorare all'interno dell'azienda A proposito di nautica a mezzanotte è entrata in vigore l'ordinanza di Fedriga che consente anche interventi di manutenzione alle barche da di porto e già questa mattina numerosi di portisti hanno raggiunto le rispettive imbarcazioni a decine anche a Trieste si sono ritrovati nei circoli nautici della città e negli ormeggi per effettuare gli interventi annuali necessari prima di mettere le imbarcazioni in acqua tutti con le mascherine hanno avviato i motori pulito le sentine e compiuto gli interventi di rimessaggio pronti per affrontare la tradizionale gita in barca il provvedimento consente anche che le barche possano essere provate in acqua in un ragionevole raggio di distanza dal porto apriamo ora la pagina sportiva e parliamo dei dilettanti con il presidente regionale della delegazione della FIGIC Germes Canciani buon pomeriggio presidente grazie per essere in nostra compagnia buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi telespettatori con lei vogliamo provare a capire alla luce delle dichiarazioni di Conte che ieri ha parlato anche del mondo dello sport del calcio in particolare per la ripresa da un lato degli allenamenti individuali dall'altro per gli allenamenti in gruppo dal 18 maggio ecco alla luce di tutto ciò presidente il mondo dei dilettanti come è pronto ad affrontare le prossime settimane che cosa si deciderà a proposito di quello che era il DPCM di ieri anche oggi il ministro Spatafora ha avuto alcune parole contraddittorie rispetto a quello che erano state le aperture del presidente Conte in quanto il protocollo della federazione a detta del ministro non è ancora completo e soprattutto non garantisce completamente quelli che sono gli attori che dovranno partecipare appunto a queste partite quindi attendiamo ulteriori integrazioni e ulteriori sviluppi sull'argomento e come potete immaginare considerato che la situazione è particolarmente complessa per i professionisti per i direttanti lo è altrettanto forse non forse sicuramente molto molto di più quello che stiamo vivendo è una situazione molto complessa e per certi versi paradossale dove obiettivamente il mondo del calcio subisce le conseguenze non solo di quella che è la crisi epiminologica ma anche di quella che è una questione di tipo economico perché purtroppo le situazioni che noi ogni giorno viviamo dicono che le risorse per il mondo dello sport e per il mondo dei direttanti sono sempre di meno sono sempre più basse quindi bisognerà attendere ancora alcuni giorni per capire poi se ci sarà una continuazione della stagione sospesa a marzo oppure se ci saranno altre decisioni in merito rispetto ai campionati regionali ma è logico che per poter pensare di praticare il mondo dello sport il mondo del calcio che è uno sport collettivo ci devono essere alcune precauzioni soprattutto le grandi tutele nei confronti di tutti i soggetti che partecipano a questo noi attraverso il CONI abbiamo ci è stato comunicato che allo studio è stato commissionato uno studio al Politecnico per appunto un protocollo di sicurezza e noi attendiamo questo protocollo per poterlo poi analizzare e capire se è attuabile è logico che per quanto riguarda ad esempio i settori giovanili i ragazzi non vanno a scuola ed è abbastanza improbabile che possono svolgere attività sportiva e quindi io ritengo che in questo momento l'unica cosa da fare sia rispettare quelle che sono le regole non fare imprudenza per poi pensare alla riportenza speriamo al mese di settembre in tranquillità e soprattutto con tutti gli elementi che possono praticamente andare a portare uno stato di tranquillità nel nostro mondo Presidente citava proprio le difficoltà delle tante società del nostro panorama nei giorni scorsi è uscita la proposta di legge della Giunta attraverso l'assessore Gibelli per dare un supporto a queste società sono state accolte anche le vostre proposte basterà questo per dare un sostegno al mondo del dilettantismo regionale o serve ancora qualcosa in più secondo lei? Sicuramente la risposta che l'amministrazione regionale di questo ringrazio sia l'assessore Gibelli ma soprattutto il Presidente del CONI l'ingegnere Brandovin che si è fatto carico di tutte le situazioni che noi federazioni abbiamo espresso e abbiamo richiesto dicevo l'amministrazione regionale ha dimostrato immediatamente quella che è la vicinanza al nostro mondo non solo di quello del calcio ma di tutti il mondo dei dilettanti e quindi i provvedimenti che ha immediatamente messo in campo sono provvedimenti certamente importanti certamente che vanno nella direzione giusta per dare quel minimo di fiducia quel minimo di contributo di speranza a tutte le nostre società ricordo ad esempio un provvedimento urgente è stato quello di permettere la manutenzione dei campi e soprattutto per quanto riguarda gli amici della Carnia che si apprestavano a iniziare il campionato carnico che poi purtroppo siamo stati costretti a sospendere era veramente un problema ma in tutta la regione e così poi tutti gli altri provvedimenti che pian piano sono stati enunciati e che andranno sicuramente a favore del nostro mondo non è non è non è sufficiente però è un buon inizio grazie grazie ci terremo aggiornati anche sull'evolversi della situazione grazie al presidente buon lavoro grazie a voi e buona serata noi ci salutiamo l'informazione su Udinese TV ritornerà alle 19 con tutti gli aggiornamenti di cronaca e di sport ma vi ricordiamo che stasera in prima serata all'ora 21 tornerà Udinese Tonight per affrontare anche il tema legato al mondo del calcio professionistico dell'Udinese in particolare con anche in questo caso tutto l'evolversi della situazione alla luce proprio delle parole del decreto di ieri del Premier Conte ci salutiamo grazie per averci seguito e buona permanenza su Udinese TV Grazie a tutti